E oggi apre la serie di treni che con moderni treni regionali Minuetto tutti i sabati partiranno dallo Stato Vaticano via treno raggiungendo Castel Gandolfo. Per la prima volta nella storia si attiva quindi, anche se a livello turistico, un servizio regolare. Penso che l'evento di oggi serva appunto a questo, a far conoscere nel mondo questo percorso, questa storia all'interno del Vaticano e questa bellissima struttura che c'è Castel Gandolfo. Quindi trasmettere anche un qualcosa da dall'interno, viverlo in prima persona. Mi ricorda di questo, mi ricorda di qualcosa del XIX secolo, mi sento che sono tornato in tempo proprio da questo, e rispetto al stato dei treni di oggi penso che è davvero bello, e avere un'esperienza come questo, essere su questo treno. Ci voleva un Papa venuto dalla fine del mondo, il quale decide un giorno, dice, io ho troppo da fare a Roma, con tutti i casini che ho a Roma, non posso andare via, non mi posso muovere, non posso godere di quei luoghi meravigliosi che stanno a 30 km da qui, però voglio che tutto questo sia almeno goduto dal mio popolo. c'è bravo, non lo guardo, non lo guardo. Grazie.